Un intervento mirato per risanare l'ambiente e restituire valore alla miniera Bosco San Cataldo nel Nisseno. La regione siciliana, attraverso il Dipartimento dell'Energia, ha dato il via libera alla proposta di progetto di finanza da 10 milioni di euro che consentirà di riqualificare il sito minerario dismesso dal 1989. Nella logica dell'economia circolare spinta anche dall'Unione Europea, sottolinea il governatore Renato Schifani, questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di partenariato pubblico-privato che non solo eliminerà fondi inquinanti, ma costituirà un'occasione di sviluppo economico che ha anche un valore simbolico, ancora di più a ridosso della ricorrenza della giornata in memoria delle vittime delle miniere il 12 novembre, istituita dal precedente governo regionale. L'intervento, secondo il progetto di finanza presentato dalla società GMRI-SRL, consentirà di smaltire l'ammasso di salgemma presente nell'area da anni fonte di inquinamento, impiegando il minerale come prodotto contro il gelo nelle strade. Una soluzione che potrà creare anche nuova occupazione, 15-20 unità di personale impiegate direttamente e altri 30 nell'indotto. Tra i benefici economici inoltre è previsto anche un incremento del gettito fiscale, investimenti per oltre 10 milioni di euro a carico del privato e il versamento alla regione del canone di produzione mineraria. Sul fronte ambientale, contemplati la sistemazione idrogeologica dell'area, la realizzazione di un campo fotovoltaico e la piantumazione di essenze erbore resistenti ai terreni salini. Il definitivo progetto di fattibilità sarà quindi posto a base di una gara d'evidenza pubblica per l'affidamento della concessione. La società GMRI-SRL in qualità di promotore potrà partecipare con diritto di prelazione così come prevede la normativa.